Il più cordiale e ben interconnessi giunge a tutti quanti voi da parte di Roberto De Angelis. M91 Roma è il post Roma-Fiorentina, il giorno dopo, the day after, a mente più fredda, più serena, più tranquilla. Vediamo dei punti salienti in modo molto sintetico e chiaro. Sta sotto gli occhi di tutti la vittoria altisonante della Roma per 3-1. Sta sotto gli occhi di tutti la buona predisposizione della Fiorentina che poi causa quell'episodio voluto dal portiere Viola di fare un fallo su Abraham, considerata una chiara occasione da rete, ha preso il cartellino rosso e la Fiorentina è rimasta in 10. Poi è toccato a noi nel secondo tempo con Zagnolo per doppia somma di ammunizioni, la Fiorentina va pure riagguantato il risultato, ma qui c'è stato uno spirito nuovo della squadra giallorossa che, compatta con rabbia sportiva, con grinta sportiva, ha risalito la china e ha dimostrato che là davanti veramente ci sono giocatori sopraffini. Uno per tutti. Si chiama Abraham, appena arrivato dal Chelsea, quindi allenato in un altro modo, ma Abraham ha classe da vendere e soprattutto non farà rimpiangere in un spento Zeko che negli ultimi tre anni è rimasto controvoglio. Abraham ha, dalla sua allo scatto, l'agilità, un colpo di testa che solo una traversa purtroppo ha negato al giocatore la gioia del gol, ma Abraham, oltre alla posizione, il tiro ambidestro, ha anche una situazione di visione di gioco dentro l'area di rigore. Abraham non è il classico centravanti egoista, è un centravanti molto altruista che riesce a deludere anche il fuorigioco delle difese avversarie e a mandare in gol i suoi compagni di reparto. A un certo punto poi non ce l'ha fatta, è entrata Shomurodov. E anche Shomurodov è un'altra bellissima sorpresa. Allora, quali saranno le punte titolari dell'attacco della Roma? Saranno proprio Abraham e Shomurodov. Io non lo so chi farà il loro posto, però, insomma, è meglio avere una serie di situazioni alternative piuttosto che non avere alternative rispetto alla formazione base. E questo, detto dell'attacco, è un fiore all'occhiello di Giuseppe Muregno, non c'è nulla da dire. Come un fiore all'occhiello, poi aspettiamo altre partite per dare la conferma, è il portiere Rui Patricio, un portiere freddo, che ieri sera ha fatto parate decisive sui tiri ravvicinati e sui colpi di testa, naturalmente di Vlaovic, punta di diamante dell'attacco della Fiorentina. Oggi la gazzetta dello sport ha detto che Vlaovic ha steccato e gli ha dato 5, secondo noi no, perché Vlaovic è pagato e gioca per mettere i palloni dentro. E ieri sera uno stupendo e preciso Rui Patricio gli ha impedito di mettere la palla in gol. Tutto questo poi per dirvi che la Roma, a parte l'attacco, a parte il gioco di rimessa, è una squadra in rotaggio. Dovrà migliorare, si dovrà perfezionare chiaramente, però c'è una lacuna che giova a essere sottolineata. Il centrocampo, l'asse centrale del centrocampo. Ieri sera nei panni così impropri di regista c'era Cristante e proprio perché c'era un avversario sfuggito a Cristante, Zaniolo ha commesso quel fallo da dietro con la spinta che gli è costato la seconda munizione e quindi l'espulsione. Allora, non è che Cristante improvvisamente sia un giocatore negativo. Cristante, per il bene della Roma, ha giocato in tutti i ruoli. Ci manca solo che faccia il terzino, che faccia il portiere, che faccia il centravanti, poi le ha svolti tutti i ruoli. Allora, Cristante non può essere il regista, il metronomo del centrocampo giallorosso. Serve un metronomo, proprio questo. Serve, per capirci al volo, uno alla Pizzarro che detta i tempi del gioco, perché serve qualcuno che là in mezzo illumini le azioni della Roma vicino con uno più duro, magari meno tattico, meno tecnico, ma che interrompa le azioni degli avversari. Questi due di centrocampo si dovranno alternare nella ricostruzione del gioco. Uno dovrà stare leggermente più vicino alla difesa e l'altro proporre il gioco. Del resto poi abbiamo Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan, Deretou. C'è solo proprio la difficoltà della scelta. In attacco, continuo ancora a ripeterlo, Shomurodov è davvero una sorpresa molto bella, ma Abraham dal Chelsea è un giocatore di un altro pianeta che ieri sera ci ha deleziato veramente di numeri spettacolari. Allora, senza sognare, senza fare voli pindarici, rimaniamo con i piedi per terra. Allora, la prima di Conference Cup dei play-off l'abbiamo superata e adesso giovedì ci sarà la gara di ritorno. In campionato abbiamo battuto una buona Fiorentina, non una Meteoria Fiorentina come ho letto da qualche parte. Ieri sera è stata una buona Fiorentina. Poi con i secconi ma non si va da nessuna parte perché qualcuno ha detto se il partiere polacco non avesse commesso quello, la Roma magari, eccetera, eccetera. La partita non si fa con i secconi fa, si fa con il gioco sviluppato e giocato. E questo gioco ci ha detto che seppure il ruotaggio, seppure con qualcosa da rivedere, la Roma è una squadra. Finalmente c'è una grinta, c'è una personalità che, spiace dirlo, con Fonseca non c'era, con Murigno sì. Allora, ben venga, un gioco forse più crudo, un gioco meno bello, meno spumeggiante, non tutti i miei proti all'arrembaggio, che però porta risultati concreti. Manca questo centrale-centrocampo che tutti mi dicono potrebbe essere Zaccaria, non Zaccaria, come dicono tutti, Zaccaria perché ha la K, vedremo se sarà lui il giocatore prescelto e speriamo che se fosse lui il prescelto sarà il motore della squadra. Del resto l'importante adesso è amalgamare i concetti di José Murigno, farli propri il più possibile e nel più breve tempo possibile al cento per cento, e poi giocare contro gli avversari. Ricordarsi sempre che noi possiamo amare la Roma e quello fuori discussione. Possiamo glorificarla forse oltre il limite o possiamo criticarla quando magari soccombe e gioca male. Però i campionati si vincono, le Coppa Italia si vincono, le Conference Cup, che è una mitropa K seconda tra parentesi, si vincono con le partite giocate e la Roma ha tutti i numeri in regola per poter tentare di prendere qualcosa. In campionato secondo me arriverà tra le prime quattro ma in zona Champions, anche perché altre squadre io ho cominciato a vederle, c'è le solite Juventus, Inter, Milan, poi tutto da vedere, il Napoli a corrente alternata, ma poi c'è la Roma, poi magari ci sarà anche la Lazio, ma la Lazio è in fase di ricostruzione, la Roma ha una marcia in più, perché avendo già assimilato molto dei comandamenti calcistici di Mourinho non sta ferma al box, ma è già partita. Sarà una macchina in rodaggio e da Mourinho accettiamo pure magari qualche defiance, per carità, però Mourinho è stato chiaro, servono tre anni per rilanciare questa Roma. Se poi al primo anno venisse qualcosa, nessuno si tirerà indietro. Sempre Forza Roma e ci risentiamo al prossimo appuntamento. Un saluto da Roberto De Angelis. Grazie. Grazie.